Musica Buon sabato sere, ben trovati, ben ritrovati sulle emittenti di Campania Felix TV. Questa sera, come tutte le sere, ospiteremo un ospite che per me è naturalmente importante perché si occupa di un aspetto della vita fondamentale che sono i viaggi e il turismo. Diamo il benvenuto ad Alessandro Iacone di Anevita Viaggi. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera Pierluca. Grazie di essere qui stasera. Molti telespettatori ci chiedevano durante le varie trasmissioni della nostra emittente come è difficile viaggiare col Covid e se si può viaggiare col Covid. Sì, assolutamente sì. Nelle ultime settimane e nell'ultimo mese sicuramente è diventato un po' più semplice viaggiare. Ovviamente siamo sempre limitati ad alcune destinazioni. è sicuramente consigliabile far sì che il proprio viaggio venga organizzato da un professionista perché, ripeto, essendo limitate un po' le destinazioni, oltre a questo poi ci sono varie condizioni e tipologie di documenti da compilare che per noi sono abbastanza semplici ma per l'utente finale potrebbero essere sicuramente più complicati. Hai dato una parola chiave che secondo me è importantissima, quella che è praticamente l'organizzazione. C'era un vecchio spot di una nota azienda che organizza viaggi che diceva che l'organizzazione è tutto. La figura del travel agent, quanto è importante oggi e che tipo di consulenza voi offrite ai viaggiatori? Il travel agent ad oggi è una figura professionale importantissima perché oltre all'aspetto puro ed organizzativo e quindi a tutto ciò che ne consegue a 360 gradi, dal controllo dei documenti necessari per la partenza, all'organizzazione, di non ricevere sorprese in viaggio, altra cosa fondamentale per rivolgersi ad un professionista è avere anche poi la sicurezza del prodotto in cui si acquista e quindi poi delle vacanze che si andranno a svolgere. Voi fate un'indagine preliminare rispetto alle location che proponete ai vari viaggiatori? Assolutamente sì, ricollegandomi alla domanda di prima, il travel agent è anche quella persona che poi riesce facendo delle ispezioni preliminari, andando a visitare in prima persona con il nostro team, in questo caso il nostro team viaggia perennemente durante l'anno, proprio per far sì di capire l'andamento, la tipologia di prodotto che poi si va a proporre al cliente finale. Quindi la vostra non è una semplice agenzia di viaggi, ma naturalmente è un'azienda specializzata in turismo che offre consulenza a viaggi di qualsiasi natura, che possa essere di piacere o di business. Assolutamente sì, la nostra figura è quella che curiamo il cliente dalla A alla Z, quindi prevendita nel momento in cui si acquista un pacchetto si decide di usufruire di un servizio, al post-india che noi forse diventa il segmento fondamentale, perché ovviamente il post-india ci aiuta a migliorare i nostri servizi. Come dicevi, poc'anzi, oltre ovviamente al discorso leisure, quindi di vacanza e di relax, noi seguiamo tantissime aziende, quindi business travel, tutto ciò che riguarda medio e grandi aziende per i propri spostamenti dei dipendenti, alloggi e quant'altro. Quindi noi praticamente abbiamo un'altra parola chiave nominata, e naturalmente mi fa piacere che l'hai nominata, che è la continua formazione del personale. Sì, per me in particolare, quindi per Avenida Viaggi, è fondamentale. Infatti, ripeto, il nostro team ha rotazione durante l'anno e in giro per il mondo. Solo andando in giro per il mondo, noi in primis possiamo raccontare le emozioni e soprattutto garantire alla nostra platea un servizio e un prodotto di livello. Il viaggio è un'esperienza che va vissuta a pieno. L'organizzazione dello stesso, naturalmente, poi ne scaturisce anche tutto quello che è l'aspetto emozionale di un viaggio. Quanti feedback positivi ti arrivano dai viaggi che tu offri? Quanto è grande la responsabilità dei viaggi che voi organizzate? Per lui, ho detto una cosa fondamentale. La nostra responsabilità, diciamo, nell'immaginario di qualunque tipologia di persona, forse l'agenzia di viaggio può sembrare un lavoro molto semplice. Invece, avendo una navigata esperienza, ormai sono più di vent'anni che sono in questo campo e faccio questo lavoro, ho assunto varie tipologie di posizioni, l'organizzazione è fondamentale. Ma questa viene tradotta in positività e quindi in un feedback positivo, collegandomi alla domanda che mi facevi, quando si è preparati. Preparati non significa solo appunto visitare in primis strutture, destinazioni, paesi, ma conoscere, formarsi e informarsi. Quindi veramente per avvenire da viaggi la formazione di tutto lo staff, perché ci tengo a precisare che non essendo da solo in agenzia, ovviamente... Possiamo salutare le tue collaborazioni. Assolutamente, le ringrazio, soprattutto per il supporto. Come si chiamano, Alessandro? C'è Miriam, Jessica, Claudia, Sara e Simona, quindi uno staff femminile. Un po' che è femminile. Sì, un po' che è femminile, quindi soprattutto le ringrazio per supportarmi e a volte anche supportarmi. Ovviamente è un lavoro di team, un lavoro di squadra che è fondamentale, perché senza di loro non potremmo andare da nessuna parte, non potremmo dare il servizio che vogliamo offrire sempre più ai nostri clienti. Tornando al discorso della formazione, è veramente il tassello fondamentale, oltre ad avere poi l'esperienza di anni e anni nel settore, per dare un servizio di qualità a tutti i nostri clienti. In una chiacchiera informale che abbiamo fatto fuori dalle telecamere, tu mi raccontavi che il servizio di posto vendita è il tuo punto di forza rispetto alle altre agenzie. In cosa è costituito il posto vendita e come matura poi la tua esperienza dell'assistenza posto vendita? Assolutamente sì. Noi, a parte che poi durante il viaggio ci sentiamo in continuo contatto con i nostri clienti, ma il posto vendita per me è fondamentale, per noi è fondamentale, facciamo un piccolo questionario molto semplice di pochissime domande, chiave ovviamente di come si è, non come si è stato in vacanza, perché quello poi a volte può dipendere dal tempo e quant'altro, ma cosa ci si aspettava rispetto a quello che il nostro team gli aveva menzionato all'atto della vendita e quello che poi è stato il riscontro sul posto, nel luogo in cui è stato. E quello è una delle nostre domande fondamentali, in cui lavoriamo tantissimo, per cercare di migliorarci sempre, oltre poi a quello dando anche poi soddisfazione e continuità al nostro cliente, dando dei vantaggi perché ci ha dato la fiducia per il proprio viaggio. Quindi è un rapporto che continua, non finisce all'approvazione del viaggio e al rientro, ma noi stavamo con i nostri clienti un rapporto veramente continuativo che poi spesso fiorisce in rapporti umani fantastici, come la maggior parte dei nostri clienti. Quindi voi fate un questionario di soddisfazione ai clienti, che fanno naturalmente solo le grandi imprese, e in base alle risposte e delle impressioni che hanno avuto su questa esperienza che naturalmente il viaggio, voi migliorate e cercare sempre di essere molto attenti a quelle che sono esigenze specifiche di ogni singolo viaggio. Ovviamente andiamo a toccare poi i tasselli laddove appunto c'è una insoddisfazione o comunque non è stato un risultato eccellente, andiamo a ritoccare quei tasselli che per il mio modo ripeto sono fondamentali per migliorare sempre più il nostro servizio e poi soprattutto scindere i vari segmenti, vacanza per famiglie, giovani, coppie, viaggi nozze che è un segmento fondamentale per noi, curiamo a 360 gradi dalla lista nostra. Questo però sarà oggetto di una prossima domanda. Io innanzitutto volevo ricordare i nostri numeri telefonici che sono 339-6357-718, ripeto, tramite WhatsApp, potete inviarci in questo momento, siamo in diretta e quindi praticamente potete inviarci le domande che faremo naturalmente al nostro Alessandro. Fate le domande più svariate, lui risponderà naturalmente con piacere, quindi 339-6357-718. Questo è l'emittente Campania Felix e siamo in un meraviglioso sabato sera. Alessandro, parliamo dei segmenti di mercato che costituiscono il mercato della tua agenzia. Mi hai parlato prima dei viaggi di nozze. Il viaggio di nozze è un momento importante per una coppia, probabilmente è una delle cose più ambite del matrimonio. Che tipo di esigenze hanno coloro i quali vengono nella tua agenzia e che tipo di mete stanno chiedendoti per questo 2022? Sì, decisamente il viaggio di nozze è il viaggio della vita, almeno così dovrebbe essere. Quindi noi lo curiamo a 360 gradi, dando anche delle piccole attenzioni e che stagiamo al viaggio. Le mete, fortunatamente ad oggi, con il risveglio e la riapertura, soprattutto di alcuni canali turistici, quindi di alcuni paesi, proprio nelle ultime settimane c'è una forte richiesta all'America che appunto è riaperto al turismo e la Polinesia, che poi una curiosità per Luca, la Polinesia per agosto, che è il periodo migliore per andarci, in tante strutture già c'è sold out. Quindi c'è stato veramente una corsa alla libertà, perché respirare aria polinesiana significa respirare aria di libertà. Certo, tante ore di volo dall'Italia, ma è uno dei paradisi terrestri da visitare prima o poi. Quindi diciamo che la corsa alla prontazione di queste strutture naturalmente meravigliose ci fanno capire che la gente ha voglia di vivere. Assolutamente sì, ripeto, negli ultimi dieci giorni, negli ultimi settimane o meglio, abbiamo riscontrato un'impennata di richiesta di preventivo, quindi di preventivazione notevole, ed inoltre finalmente iniziamo a parlare di mete esotiche, come diciamo prima Polinesia, Caraibi, Maldive, anche Medio Oriente, quindi Dubai su tutte, che è una tra le mete più richieste anche per la presenza dell'Expo, man mano Tailandia pure si è riaperto una parte, quindi Puket, una destinazione, quindi si arriva un po' in normalità e le persone non vedono l'ora di poter ripartire per mete lontane. Ora parliamo di una delle attività più usuali che ti capitano, che è quella praticamente delle liste per i viaggi. Che cos'è una lista per un viaggio? Sì, in qualche parole il tutto è nato ovviamente in primis con la lista nozze, quindi dove gli sposi danno la possibilità a tutti gli invitati di poter effettuare un regalo presso l'agenzia di viaggi inerente al proprio viaggio. Però da qui noi abbiamo creato un supporto proprio per gli sposi, come dicevo prima, infatti noi regaliamo un mini sito di lista di nozze dove personalizzabili, dove noi ovviamente aiutiamo anche noi gli sposi a personalizzarlo al meglio, dove è possibile veramente inserire le cose più simpatiche dalla chiesa, da dove si effettuerà il banchetto al viaggio vero e proprio, con user e password personali che gli sposi possono anche quelle personalizzare e poter mandare a tutti gli invitati per far sì che appunto vengano dati a loro dei regali. Attivati questi contributi. Noi questa è una cosa che diamo completamente gratuita per i nostri sposi. Quindi diciamo anche per gli sposi che ci tengono potete controllare che tipo di contributo hanno inserito i vostri... Precisamente, tra l'altro c'è proprio un'area, un segmento di ricezione messaggio, che è una cosa molto carina perché chi fa regalo può lasciare anche un messaggio di agurio, gli agurio, gli agurio, gli agurio, gli agurio, gli agurio e poi inoltre potranno controllare l'importo... Quindi suo ce la sta ben attenta che la venita viaggi ti fa controllare anche che tipo di importo hai inserito nel viaggio di nozzo dei tuoi figli. Bene, parliamo invece di famiglie. Quanto è importante la prevenzione di tutta una serie di problemi che possono verificarsi durante un viaggio con minori o con bambini? Cosa fondamentale è dove noi battiamo tantissimo, anche se non è un nostro compito ma ormai lo è diventato da anni, proprio per la cura del cliente, per i minori bisogna stare attenti alla documentazione, soprattutto quando nel caso ci si viaggia con minori non accompagnati da entrambi i genitori bisogna avere tutte le autorizzazioni di entrambi i genitori per far sì che questo viaggio si porti al termine, quindi che il minore possa partire. In passato tante volte ci è capitato che le documentazioni non erano in ordine ma fortunatamente facendo un ottimo lavoro, certo sì, e questo il nostro team è decisamente attento, siamo riusciti in prepartenza a risolvere il problema. Perfetto, allora adesso praticamente l'ultimo aspetto caratterizzante di un'agenzia di viaggio naturalmente sono i viaggi per i giovani. Sì, i viaggi per i giovani che altrettanto è un segmento importante, quest'anno finalmente ritorna un po' le mete più ambite dalle isole greche a quelle spagnole, dalle isole greche ioniche, qui su Zante che è un po' un must per quanto riguarda i giovani, Zante e Corfu che sono un po' quelle mete più abbordabili, più economiche ma sicuramente non meno divertenti, alla Croazia che negli ultimi anni ha dato lo slancio pre-covid, ha delle giornate da passare veramente in allegria con tanti festival della musica, quindi anche mete decisamente poi che con gli anni si sono aggiornate proprio per questo tipo di segmento. Perfetto, ora prima di passare alle domande naturalmente da casa vorrei naturalmente che tu ci comunicassi i tuoi contatti. Sì, allora noi siamo in via Pasquale Scura, Spacca Napoli, quindi siamo nel centro storico della nostra amata città, ci potete contattare allo 081 195 76 737 Scusami, ripetiamolo per chi in quel momento ha preso la penna o se lo sta segnando col cellulare, ripetiamo un attimo il numero di telefono. 081 195 76 737, oltre poi ovviamente ai contatti telefonici potete seguirci sui nostri canali Instagram e Facebook, tra cui vi raccomandiamo di seguirci per un semplice motivo che oltre a darvi delle ottime promozioni o cerchiamo di darvi delle ottime promozioni, facciamo informazioni, quindi vi diamo informazioni che ad oggi forse è l'elemento più importante per quanto riguarda un viaggio. Oppure via email o anche, dato l'ultimo periodo, è possibile anche prenotare una call tranquillamente se siete impossibilitati a venire in ufficio. Perfetto, allora praticamente ora passiamo alle domande da casa, naturalmente continuate a scriverci altre 39 635 7718, le domande naturalmente che sono pervenute le faremo, le comunicheremo e le dibatteremo insieme, quelle di cui non riusciremo naturalmente a rispondere saranno oggetto naturalmente di una nostra risposta in settimana come sempre. Allora, perfetto, apriamo praticamente Whatsapp, ci sono diversi messaggi. Allora, la prima domanda, devo andare a Londra, ci vuole il passaporto? Assolutamente sì, come ben sappiamo Londra, quindi il Regno Unito, con la Brexit, non fa più parte dell'Unione Europea, quindi c'è bisogno di obbligatoria del passaporto. E' cambiato un po' il rapporto con Londra da quando è stato dall'Europa? Dall'Europa, non dall'Europa, che l'Europa non ha mai avuto. Fondamentalmente è cambiato per un semplice fatto che è stata chiusa per un periodo, visto la situazione di scorso Covid. Inoltre poi in quel momento dove anche una parte dell'Europa era possibile viaggiare, Londra era un po' più particolare in quanto bisognava fare due test all'arrivo e dopo tre giorni, cinque giorni, in base al soggiorno che si effettuava. Quindi negli ultimi tempi ha un po' sofferto con l'Italia il collegamento con il Regno Unito. Però sicuramente Londra è una meraviglia interessante e interessata naturalmente dal turismo che viene da tutto il mondo. Ci sono pacchetti per famiglie con bambini gratis? Assolutamente sì, infatti come vi dicevo prima, oltre a pubblicizzare sui nostri social, vi invito a telefonare, ci sarà il nostro team che vi accoglierà con calore, ma soprattutto con professionalità, danno vi ottime promozioni e tra l'altro in questo periodo è il periodo migliore dell'anno per sfruttare delle promozioni con bambini gratis. Quindi bambini gratis vuol dire che i bambini non pagano praticamente? Bambini gratis significa che se si prenota un solo soggiorno, il bambino è completamente gratuito. Se invece si prenota un pacchetto dove c'è una nave, Sardegna, più soggiorno o aereo, l'aereo o la nave viene pagata in minima parte, invece il soggiorno resta gratis. Quindi comunque è decisamente conveniente. Decisamente conveniente. Allora, se prendo il Covid a Ibiza, quanto dura la quarantena? Perfetto, allora questa è una delle domande che purtroppo ultimamente sono anche poi scaturite in confirme, cioè in ciò che è successo. Per ogni paese, a seconda poi del periodo storico in cui viviamo, in cui accade il tutto, ci sono delle regole. Le regole comprende e funziona che laddove si è positivi in una destinazione estera, in base alla legge governativa del momento, si rimane in quarantena dai 5 ai 10 e 12 giorni. Di solito vengono utilizzati i Covid hotel, cioè che cosa sono i Covid hotel? I Covid hotel sono degli hotel dove vengono recepiti, dove vengono inserite tutte quelle persone che sono positive al Covid. Dopodiché in quell'hotel si verrà rispettato un regime di quarantena con ristorazione dedicata e dopo il tempo che ci si impiega per essere negativi si può ritornare nel proprio paese. Ovviamente, fortunatamente possiamo dirlo che in Europa questa cosa non crediamo che accada più perché è stato eliminato il tampone di rientro, perché fino a poco tempo fa per rientrare in Italia era obbligatore effettuare un tampone, quindi lì poteva sicuramente scaturire una positività. invece dal primo febbraio, fortunatamente, quindi si è allentata un po' la restrizione quando si viaggerà in Europa al momento non ci sarà bisogno del tampone di rientro quindi questa cosa diciamo che... Quindi perché si è abbattuta anche naturalmente la virulenza del virus dato praticamente la variante Omicron. Allora, un'altra domanda da casa, se prendo il Covid, sempre si parla di Covid questa sera se prendo il Covid il biglietto mi viene rimborsato? In questo caso, se posso vorrei fare un attimo una piccola parentesi nei nostri pacchetti viaggio, di qualunque sia la destinazione, facciamo tantissima attenzione soprattutto cerchiamo di sottolineare sempre più al cliente finale il discorso assicurativo che per tanti a volte è una spesa inutile o una spesa dove a volte c'è una differenza di prezzo che noi ovviamente non eliminiamo mai, ma credetemi che è un qualcosa di fondamentale perché? Perché proprio in base a questa domanda ti dico che noi effettuiamo sempre un'assicurazione per i nostri clienti in caso di medico bagaglio e annullamento con Covid. Che cosa significa? Che laddove il cliente non può partire perché precedentemente alla partenza si è effettuato il tampone e esce positivo, può ricorrere all'assicurazione per avere il rimborso totale del viaggio tranne lo scoperto. Cosa significa il rimborso totale del viaggio tranne lo scoperto? Poi come tutte le compagnie assicurative quando si acquista un'assicurazione e quindi si assicura un importo perché quando si è portato a un viaggio si assicura quell'importo, ad esempio se si è assicurati 1000 euro l'80% viene rimborsato e il costo dell'assicurazione è il 20% quindi 200 euro si perdono a meno che poi invece a differenza di chi non fa questa assicurazione, laddove esce positivo, pre partenza perde tutto. Allora diciamo che, dicendolo in modo molto elementare, tutto l'importo del viaggio viene rimborsato l'unica cosa che potrebbe non essere rimborsata naturalmente è solo l'importo della spesa del costo dell'assicurato e del 20% dell'importo. Perfetto, quindi se prendete il Covid sicuramente avrete un rimborso. Per quanto riguarda ancora le domande da casa, si può organizzare un tour in America in 7 giorni? Sì, diciamo che in modo molto semplice e ovviamente realistico perché il nostro lavoro non è solo quello di tirar giù un buon prezzo ed organizzare il viaggio ma dare una consulenza, quindi dare un consiglio. In 7 giorni sì, è possibile ma sicuramente avrà un tour abbastanza frenetico e stancante. Quindi se vi piace una vacanza americana frenetica sicuramente venite a viaggi, vi può aiutare. Ci sono offerte sul vostro sito? Sì, assolutamente sì, c'è un sito aggiornato con offerte su tutte le destinazioni appunto dove è possibile andarci per il turismo e inoltre sulle nostre proposte ci sono i nostri pacchetti speciali che noi abbiamo delle partenze speciali. Mi dirai che cosa sono partenze speciali? Te lo stavo per chiedere. Partenze speciali sono tutte quelle partenze dove noi abbiamo spesso un accompagnatore della nostra agenzia, quindi ci sarà una persona nostra che viaggerà insieme al gruppo, quindi insieme ai clienti, inoltre in quelle partenze speciali sicuramente ci sarà un prezzo decisamente importante e quindi aggressivo senza alcun togliere alla qualità del servizio. Bene, andiamo avanti con le domande. Perché nelle crociere si deve pagare la mancia? Allora, questa diciamo che è una cosa che viene un po' estorica, nel senso che viene da tempo. Diciamo che in passato c'era questa usanza di dare al cameriere di turno e c'era una mancia. Tra l'altro poi negli ultimi anni, ormai ci sono 4-5 anni che... Ma la mancia cosa vuol dire? La regalia al cameriere? La regalia al cameriere, assolutamente sì. Però fortunatamente questa cosa si è un po' regolamentata, perché prima c'era un po' qualche disputa anche tra i stessi lavoratori, perché ovviamente a tutti fa piacere ricevere una regalia. Invece negli ultimi anni si è regolamentata con appunto questa quota di tasse e mance che viene così chiamata, che si paga in pre-partenza. Quindi diciamo che non ci sentiamo obbligati a dare la regalia, perché già è stata versata all'atto della prozione. E ovviamente questa quota di tasse e mance va direttamente alla compagnia croceristica. Può essere MSC, Costa Crocero... Arrivare in Polinesia quante ore di viaggio dura? Questa forse è per il discorso della Polinesia che tu... Perfetto, assolutamente sì. Allora, la Polinesia è collegata dall'Italia con due stradamenti, o in Australia o fondamentalmente nell'America, perché valutando appunto il mappamondo è proprio al centro, nell'oceano Pacifico, precisamente tra Australia e Polinesia. Quindi sicuramente è consigliabile abbinarla a una di queste due mete. E dall'Italia sono circa 19 ore di volo. Ovviamente poi parliamo di ore di volo. Poi in base all'istratamento, in base allo scalo, ne saranno 27, 28 e così via. Perfetto, andiamo ancora avanti. Charm è sicura? Allora, Charm è sicura. Certo che Charm in queste ultime settimane è la meta che più è richiesta. Dire parola sicura, Charm fa parte del corridoio turistico, quindi è cosa importante come anche altre destinazioni. Il corridoio turistico non è altro che il governo è riuscito, grazie alla pressione di Torro Pereto e la gestia di viaggio, di creare questi corridoi turistici per dare un po' di sfogo e anche in fase di pandemia dare lavoro a tutto il comparto del turismo. Quindi grazie alla nostra pressione si sono creati questi corridoi turistici, di cui ne fa parte Charm, che ad oggi sicuramente è la meta più sicura. Luca, dico più sicura perché è normale, che poi è sempre una domanda da un milione di dollari, ma sicuramente quella più controllata. Bene, altre domande da casa. Quante ore ci vogliono per arrivare in Polinesia? Perfetto, ricollegandoci al discorso di prima, la Polinesia è sull'Oceano Pacifico, tra l'Australia e l'America, geograficamente. Quindi sicuramente è consigliabile abbinare alla Polinesia un itinerario itinerante, appunto, in Australia o in America. Dall'Italia invece dista all'incirca, sono 19 ore di volo, perché sono 12 su Los Angeles e più 9 su Papete. Ovviamente poi queste sono le ore pratiche e tecniche di volo, dopodiché ci saranno gli scali, quindi qualcosina in più. È un bel viaggetto, ma come hai detto prima, è un'isola praticamente in cantevole, quindi sicuramente ne vale la pena. Una domanda un po' strana, la prima la leggevo. Devo organizzare un viaggio all'Urdo con mia nonna, si può organizzare? Assolutamente sì. Per lui ci sono dei pacchetti organizzati, tra l'altro con assistenza spirituale, quindi una persona che segue il gruppo come accompagnatore e dà anche delle spiegazioni tecniche, comunque accompagna il gruppo, il viaggio, le persone durante tutto il tragitto e tutto il soggiorno presso questa destinazione, che comunque è molto emozionante. A venire da viaggi, viaggi da Dio, si potrebbe dire in questo caso. La crociera si può fare a marzo? Sì, assolutamente sì. In questo periodo ci sono delle navi che effettuano i trenerari nel Mediterraneo con tariffe decisamente aggressive. Sempre sulle crociere, perché devo pagare i pacchetti bevandi? Non è tutto incluso? Allora, seconda della scelta, in fase di prenotazione, dove appunto il nostro team offrirà e espriterà ai clienti ciò che i pacchetti si possono acquistare, si parte da una base di pensione completa a bevande escluse. Laddove si vogliono acquistare dei pacchetti, ci sono varie tipologie di pacchetti, cosa molto importante, da quello analcolico a quello alcolico a quello H24. Quindi sono varie tipologie di pacchetti che ogni cliente può scegliere in base alle proprie esigenze. Quindi praticamente ci sono delle varianti in crociera, quindi si può prendere semplicemente la cabina con le bevande e la cena o può praticamente fare quello che si vuole, quindi prendere anche degli aperitivi di sera. Assolutamente sì, puoi anche fare il pacchetto Lings H24 presso tutti i bar dei ristoranti, presso tutti i bar e i ristoranti della nave e quindi non avere nessun tipo di linea. Ma tu come consulente pensi che sia opportuno pagare le escursioni e pagare le bevande prima oppure no? Ovviamente come diciamo sempre la cosa fondamentale è l'esigenza del cliente perché l'esigenza purtroppo o per fortuna varia a seconda di ogni persona. C'è chi preferisce non avere limiti in nulla o stare lì a pagare ogni volta e chi invece preferisce verificare un po' le situazioni e viversi in caso di un po' meno la nave fare più escursioni e quindi in quel caso l'olingus potrebbe essere completamente inutile. Perfetto, andiamo avanti praticamente con le domande. Cosa mi consigli con un budget di 1000 euro se siamo due persone e abbiamo 19 anni? Perfetto, in questo caso una delle mete o meglio delle mete ideali sicuramente potrebbe essere Croazia stesso con l'isola di Paglio in cui abbiamo un mare fantastico ma ha anche tanta vita mondana e notturna alle classiche isole ioniche quindi Corfu e Zante che per i giovani in questo caso di questa età è di poco fantastico e su tutto cito la famosa Laganas quindi Zante con una strada piena di locali e bar dove ci sono ragazzi di tutto il mondo quindi decisamente consiglierei Zante per questo. Altre domande da casa perché mi dicono che l'Albania ha il mare della Puglia io sono stato in Puglia il mare è fantastico l'Albania non l'ho mai considerato una meta di viaggio? Sicuramente l'Albania nella nostra concezione o meglio nella concezione media delle persone la si vede ancora con occhi diversi io invece ti posso confermare Luca che decisamente l'Albania ha un mare fantastico dove è possibile sviluppare delle settimane fantastiche sicuramente è consigliabile in più un fly and drive quindi un noleggio auto o andarci con la propria auto per visitare le tante spiagge dal punto di vista ricettivo quindi strutture alberini sicuramente non è ancora sviluppata al massimo dei livelli è vasta bella da visitare prettamente una vacanza di mare ripeto la cosa che forse pecca ancora è lo sviluppo delle strutture ricettive per questo diciamo sono anni che si parla ma non spicca mai il volo come altre destinazioni bene tante risposte abbiamo dato a tanti telespettatori che stasera praticamente ci circondano di quesiti e naturalmente Alessandro Iacone è estremamente preparato ci sta rispondendo praticamente a raffica allora ultima domanda e poi naturalmente passiamo alla parte per il tour operator devo aprire un'azienda a Dubai quanto costa il biglietto? certo in questo caso l'apertura dell'azienda non è collegata al costo del biglietto una volta che mediamente rispondiamo anche su questo per dare a voi altre informazioni utili un volo diretto da Napoli parliamo a partire dai 450 ai 500 in bassa stagione fino a un 700 800 euro di alta stagione quindi ancora decisamente gestibile soprattutto con un volo diretto da Napoli imprenditore che vuoi aprire l'azienda Dubai con 500 euro ti portiamo fino e dove devi arrivare allora poi passiamo un attimo a tutto l'altro settore naturalmente ci sono tanti altri messaggi poter rigireremo naturalmente lì rispondere con piacere allora per i tour operator noi abbiamo tu sei uno dei founder il fondatore di un'impresa che si chiama I can do buy che cos'è I can do buy e come nasce sì assolutamente sì con immenso orgoglio e soddisfazione insieme a Walter Giordano che è il mio socio di questo tour operator che abbiamo creato circa 6 anni fa in un viaggio effettuato circa 18 anni fa quindi un po' di tempo fa dove Dubai era completamente diversa rispetto a tutto ciò che è oggi ci siamo innescati ci siamo immersi in questa destinazione che per noi ovviamente è una destinazione del cuore creando sempre partendo proprio dal discorso di creazioni gruppi per la Formula 1 quindi per il Gran Premo di Abu Dhabi che come organizzazione è uno dei Gran Premi sicuramente più belli di tutto il circuito di Formula 1 man mano negli anni sempre più persone aderivano a questa partenza speciale come dicevamo prima e da qui l'idea di creare proprio un operatore di nicchia quindi specializzato sulla destinazione e da 6 anni abbiamo creato appunto questa nuova realtà I can Dubai che da ormai da circa poi 4-5 anni è iniziato a viaggiare con numeri importanti soprattutto perché abbiamo sempre partenze speciali quindi da allotment che tecnicamente abbiamo dei posti sediolino comprati quindi delle tariffe decisamente più aggressive per la programmazione durante l'anno un must di I can Dubai è sicuramente il capodanno che il quale ormai da circa 12 anni effettuiamo che conta circa 200-250 presenze ad annata quindi è una grande soddisfazione e in quel caso c'è sempre un accompagnatore del tour operator lì con i clienti a Dubai quindi diciamo che Dubai è una meta sicuramente interessante è fruibile in tutti i mesi dell'anno e quindi tu fornisci in quel caso non solo da agenzia e da travel agent ma sei praticamente un tour operator sì in quel caso abbiamo appunto creato questa nuova realtà che funge esclusivamente da tour operator quindi abbiamo contatti con tante agenzie campane ma anche in Italia questa è poi la più grande soddisfazione quando si lavora con serietà e per bene tante agenzie del nord ci vendono con piacere e soprattutto Dubai è quella meta che si è effettuata con tanta attenzione con tanta serietà perché ovviamente ogni paese ha le sue difficoltà può dare grandi soddisfazioni e come dicevi tu prima ovviamente l'ideale poi periodo di viaggio è il nostro inverno in quanto in estate tante persone comunque ci vanno quindi ce la richiedono a parte forse l'unica cosa un po' fastidiosa è le alte temperature e l'umidità allora io volevo chiederti una cosa prima poi di andare verso le conclusioni perché siamo quasi a mezzanotte Dubai se ne fa un gran parlare ma che cos'è Dubai e cosa rappresenta per noi italiani è quasi un sogno ma prima quando era Las Vegas oggi è Dubai che cos'è Dubai? Dubai è una città che ripeto in pochi anni si è sviluppata e ha dato un modo di vivere completamente diverso rispetto a quello che noi siamo abituati Dubai funziona tutto nel senso è una città decisamente organizzata e rispettosa delle regole infatti a Dubai non si può scherzare nel senso chi infrange regole le pene sono importanti decise ma la cosa più interessante è che a Dubai si può fare tutto si può fare una vacanza di mare si può andare con la famiglia Dubai che ormai la frequento da circa 22 anni quasi metà dell'anno contanto i giorni sono a Dubai è una città super sicura non mi è mai capitato di assistere a un qualcosa criminale forse dire anche un po' troppo ma non carino fuori del quindi è una veramente è una città che offre questa sicurezza che è fondamentale una vacanza da parchi acquatici il deserto che è uno degli scenari più belli del mondo vi invito veramente a provare questa emozione e poi da lì hanno creato una pista di sci all'interno di un centro commerciale quindi ad agosto 48 gradi esterno con 75% di umidità si va a sciare bene quindi Dubai è una meta naturalmente per tutti i gusti possiamo dire assolutamente ti faccio una domanda un po' cattiva che non si dovrebbe fare ma qual è la tua meta preferita diciamo che la mia meta preferita è un po' complicato perché io sono dell'idea avendo viaggiato tanto e continuiamo a farlo non ci fermiamo assolutamente è una tua più grande passione assolutamente sì anche perché viaggiare apre la mente è vero lo si dice ma è completamente così si riesce a vivere la vita a vederla in modo diverso perché si riescono a percepire tante sfaccettature e tanti modi di vivere ti posso dire una delle meta che più mi ha colpito è il Sudafrica sicuramente il Sudafrica il quale motivo ho vissuto un'esperienza in Sudafrica passando da Johannesburg che al contrario Dubai è decisamente una città dove avverti un po' la pericolosità la non sicurezza passando poi per Cape Town che è l'estremo Sud con l'incontro dei due oceani che è un paesaggio fantastico ma la cosa che più mi è rimasta nel cuore è effettuare il Safari con questi jeep scoperte in questa immensa riserva con animali a pochi passi animali selvatici in piena libertà quindi sono quelle emozioni che è veramente complicato dimenticare Sudafrica storicamente è un paese di libertà pensiamo solo al suo uno dei suoi presidenti Nelson Mandela è importante ripetiamo ancora una volta i tuoi numeri naturalmente la valanga di messaggi stanno arrivando ripetiamo i numeri di Avenida Viaggio 081 195 76 737 perfetto ora praticamente ti faccio una domanda che va fuori quello che naturalmente rappresenta la tua attività tu sei un membro attivo di un'associazione di imprese che si chiama BNI che cosa è la BNI per te cosa rappresenta e se la consiglieresti assolutamente sì partiamo dall'ultima l'ultima sezione la consiglio decisamente per un semplice motivo mi sono trovato in questa associazione per appunto per un mio carissimo amico il quale mi ha invitato a visitarla prima quindi da ospite e poi adesso ne faccio parte è un gruppo di persone decisamente per bene imprenditori seri dove ci scambiano referenze quindi ci scambiano conoscenze e oggi questo è un valore aggiunto per la mia azienda e per la mia persona soprattutto ora ultima domanda poi ci avviamo naturalmente siamo in conclusione tre motivi per i quali i nostri telespettatori dovrebbero scegliere a Venitalia io dico sono tre motivi molto molto semplici affidarsi a chi di questa passione perché le vacanze sono una passione ne fa un obiettivo quotidiano affidarsi a chi conosce quindi conoscenza e soprattutto poi ultima ma non per importanza la serietà dell'azienda quindi scegliamo e viaggiamo con Avenida Viaggi per quelle che sono le vostre esigenze di natura naturalmente di creativa ma anche di business quindi Avenida Viaggi si trova nel cuore di Napoli a Spacca Napoli è piacevole anche arrivare da loro perché si vede tutto quanto è la vita il cuore pulsante della città di Napoli quindi io ringrazio Alessandro Iacone buonasera grazie a te Luca buonasera buonasera a tutti i telespettatori quindi domani e domenica naturalmente riposatevi e ci vediamo sabato prossimo grazie a tutti dell'ascolto